0 4 0 5 20 23 ore 22 e 37 questo è l'orario questa è la data della storia perché ragazzi siamo campioni d'italia il giorno dopo quasi due perché quasi le 11 io adesso ho trovato il tempo per registrare questo video questo mini video che veramente perché veramente non trovo le parole per per questa stagione per questa squadra e tenetevi forte poi uscirò un video in cui vi dovrò parlare di una situazione di dei dubbi che ho per continuare qui perché veramente non ho forse non ho proprio tempo in questo in questo momento quindi perdonatemi non ho tempo per registrare quello che quello che riesco insomma porto siamo campioni d'italia ed è un'emozione pazzesca è un'emozione pazzesca io sono stato a caserta a festeggiare nel monumento del monumento proprio brutta al monumento dei caduti a caserta caserta tutta azzurra il mondo è azzurro l'italia è azzurra napoli campioni d'italia con il gol di osimen che pareggia il golaso di rovic che ragazzi tutti con noi fanno stessi gol e una mano ce la sta dando ce l'ha data anche lui anche lui ci ha dato una mano diego è per te e io questo scudetto lo voglio dedicare una persona che purtroppo non è più qua con me con noi e si chiama gustavo scusate si chiama gustavo e speravo volevo che ci fosse anche lui all'interno di questa festa ciao gustavo ti voglio bene cosa avresti meritato ma sono sicuro che stai esultando e stai applaudendo questa squadra anche tu da lassù